Buon pomeriggio, visto che siamo quasi a mezzogiorno di questa bellissima domenica, parliamo di calcio primavera e da pochissimo finita Cagliari Juventus, Sander 19, primavera Serie A1, giornata numero 18, la gara è finita 1-1 i padroni di casa sono andati in vantaggio nel primo tempo al ventesimo con Lombardi, nella ripresa Sekulov per la Juventus ha trovato il momentaneo e definitivo pareggio all'ottantottesimo segno X ben quotato a 3-25-3-50, in classifica il Cagliari si mantiene al secondo posto con 39 punti il che vuol dire che se mantenesse la seconda posizione andrebbe direttamente alle semifinali play-off la Juventus è quarta a quota 31 punti ebbene, il Cagliari sarà impegnato la settimana prossima in casa del Sassuolo che è in una posizione con 23 punti ma reduce dalla sconfitta nell'ultima partita in casa dell'Atalanta mentre la Juventus giocherà in casa contro l'Inter, diretta concorrente per i play-off proprio al terzo posto a 3 punti di vantaggio sui bianconeri bene, concludiamo ribadendo Cagliari Under-19, Juventus Under-19, 1-1 Ciao!